sono passati un anno e due mesi credo è giusto siamo tornati sigla no non abbiamo una sigla però sto facendo il professionale non ho una sigla io dico che è una sigla vabbè niente sigla bene a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video sono favij sono con il buon pietro dopo sei anni nooo ragazzi allora che è successo è da una vita che non facciamo minecraft parkour che è stata una delle serie più di successo in assoluto del canale siccome l'ultimo minecraft parkour che abbiamo fatto era il parkour spiral che è questo che stiamo guardando in questa bellissima foto in hd vabbè adesso esiste un nuovo minecraft parkour che hanno fatto nel tempo mentre noi ci trastullavamo che è questo in realtà non renderizza bene tutto quanto perché non renderizza i blocchi fino a un tot però questa qua è il minecraft parkour fermo un secondo a piramide dimmi stai fermo dove sei no no intanto non c'è il pvp questa è sparta no sei un pezzente tra l'altro mi è anche è anche comparso il titolo hai visto? iniziato col tradimento vabbè questo è il nuovo minecraft parkour che a quanto pare si pronuncia veramente figo ma scusami tu non puoi andare direttamente al livello lì a sinistra facciamo le cose fatte bene ti ha giustiziato Zeus eh praticamente sì è un film vieni qua va bene sembra fatta molto meglio ragazzi siamo contentissimi di iniziare almeno io sono contentissimo di iniziare questa nuova serie da una vita non la facevamo ci sei? allora io non mi ricordo manco più i tasti però vabbè let's go oh il primo salto io so che già fanno tanti sarà difficile io non so quante puntate faremo per finirlo soprattutto non so quanto è lungo troppe ma sei sicuro che mi ha detto Pietro che è più difficile dell'altro ma sei sicuro? eh sì come fai a sapere questa cosa? perché ho visto un po' di cose di questa mappa hai visto delle robe va bene allora niente sono cascato rifaccio e poi la cosa brutta è che cioè se cadi sei caduto devi rifarti tutto tutto in che senso? no no tutto il livello però c'è raramente tipo se ora cadi qua vai in acqua riparti da zero ah beh sì certo e poi al primo livello c'è già uno slime ti ricordi? dove? è lì dove vuoi andare Lore scusami ah cavolo io stavo facendo un giro sbagliato va bene allora aspetta eh non mi ricordo più come si fa mi sei mancato Lore tantissimo sei veramente un pezzente perché abbiamo tenuto il pvp on ragazzi vi prego togliamo il pvp on quanto mi mancava quanto mi era mancato vorrei togliere ce l'ho fatta sì non ci credo e non ti ho ripreso quindi non vale ci ho creduto e ce l'ho fatta bravissimo grazie ciao ciao bellissimo a quanto pare anche questa è bella ma è veramente passato più di un anno dall'ultimo minecraft parkour eh già non ci posso what non facciamoci domande aiuto dove nevo andare no lo sono bloccato devi venire di qua ah ok ok non facciamoci domande non può essere passato così tanto tempo devi rifarti tutto io voglio morire ti ha fatto ripartire dove? dall'inizio eh dall'inizio no vabbè allora no facciamo che dopo un tot ci creiamo i checkpoint come funziona ma teoricamente quando fai il livello cioè hai il checkpoint il problema è che devi finire il livello non è che poi ok allora vieni fin qua intanto io do un'occhiata vieni qua non andare dietro che c'è difficile ah qua è il livello 2 c'è scritto a destra a destra a destra c'è scritto livello 2 dov'è? ogni volta che aumentiamo il livello quindi ci si può c'è il checkpoint per forza però attenzione che qua hai un'idea di dove bisogna andare perché non ho cioè io siccome la piramide immagino che debba andare sempre più in alto tu no? non ne ho idea lì si può uscire guarda prova? no prova tu vai tu? no prova tu io sono morto due volte questo episodio iolo è comparso un mega va bene non andiamo indietro si si respawni proprio all'inizio del livello quindi è qua e credo che bisogna andare sull'albero è per forza si puoi entrare nella roccia entrare nella roccia ah è vero c'è un'entrata qua nascosta perfetto ma che figo è molto figo e poi qua sopra immagino si e poi guarda guarda lì là guarda lì là le scalette perfetto io cado ma invece no perfetto siamo bravissimi si è cascato no va bene io continuo siamo bravissimi ti vedo dalla finestra amico aspettami aspettami cos'è sta roba what cos'è sta roba qua dove sei? dove sei io? ah sei sceso da qua sei sceso che trip vieni cos'è? è nullo credo che bisogna entrare another way c'è un'altra parte di si è venuto qua ok what c'è un altro è un tetrasporto esatto ma no no che figata è veramente figa sta mappa si si è molto più bella delle altre non male siamo ritornati con ti prego non dall'inizio non dall'inizio dall'inizio del livello ti ha fatto riparare ah no ok no 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 che da qui sotto dal centro del trasporto si da tp ma sei mortissimo ma ti sei ordinato non ho capito ma figurati non lo tocco da una ma non è comunque non è passato un anno ma ancora qui sono morto non lo so perché ok mamma mia what a player livello 4 vieni 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 cosa stai dicendo ferma un secondo sali ti aspetto ah gli slime esatto try bravissimo eh guarda lo sborone arriva lui eh per farti vedere quanto in realtà è facile oh my si chiama karma questo che è karma volevo fare il trickshot e io non ci sono riuscito vabbè ma non ci riuscirò mai più scommetti tranquillo ti aspetto ora what a ecco lo sapete bravissimo niente siamo qua c'hai bloccato al livello 3 e il karma il karma ragazzi comunque colpisce io lo dico sempre dai sei un pensente schifoso laido colpisce veramente fortissimo il karma è forte forte mannaia la morte non ci avevo pensato che avremmi potuto dai no adesso non lo faccio più non lo faccio schifoso vieni qua ciao ma che male c'è l'acqua c'è l'acqua c'è la lava e ah di qua no 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 spegnimi spegnimi aia e non torna su non torna come spegnimi come ti spegni soffia sul monitor che ne so io da te come came to hot beh non avevo dubbi non è possibile sei scarso sono arrivata io non so perché sono di tanto bravissimo hai visto pietro ma tu nel tempo sono proprio bravo ma io riesco a fare un ah sei morto sono morto che belle queste cose nella vita ha cuna patata ce l'ho fatta occhio bravissimo che male che male what cosa diavolo è ce l'ho fatta come funziona non ho capito eh devi ti devi trasportare su un punto ma quanto bene no aiuto è difficilissimo no no c'è un problema sono caduto qui sono caduto io dove sei caduto è dallo slime e quindi che ne so sono bloccato aspetta no va bene comunque siamo già arrivati alla parte difficile nel caso ciao amico dove sei mi piace la lava mi piace no non è vero io vedo robe quanto difficile sta parte è veramente un casino comunque sta parte sul serio è difficile aspetta che ci provo ci riprovo è tanto bello quanto difficile madonna è veramente difficile sta parte giuro aspetta che sta parte è un casino è questa la parte difficile aspetta eh sì ecco qua come fai spiegami ci ho fatta devi devi correre dalla parte dalla parte interna bravissimo corri corri salta dai amico dai amico dai amico forza bravissimo ok mi hai visto bravissimo sì che ho visto ok grazie adesso sono veramente euforico non lo so sai ragazzi no che male se muoio se muoio riparto da zero lo so quindi ti consiglio di stare molto all'occhio soprattutto mentre salto mentre ho la lava addosso che male quando è che va via la lava basta spegnimi è funzionato cosa facciamo qua andiamo di là ok 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 perfetto finisce sto livello prima no non ci credo era un troll era un troll oh mio dio c'era una trollata no dai la mia visuale è stato bellissimo veramente bellissimo era una trollata non l'avrei mai detto arrivo cioè mi han trollato ma sai che non me la sarei mai aspettato ma neanch'io perché se l'hai studiata benissimo è una app difficile non ci pensi a queste cavolate porca vacca e come fai scusa salta ok oh guarda che roba se sbagli questo riparti all'inizio eh si io ci credo ci credo ancora sono bravissimo ti prego per favore ok era molto più panico che altro livello 5 ah fatto l'hai fatta? si vieni che lag che c'è di qua l'hai fatta? no oh dammi la mano aiutami sei un pezzo di me va bene amici prossimo l'importante è che non perdiamo ci sei l'importante è che non non cadiamo nella lava e non torniamo indietro il problema è uno solo io pensavo mi desse a livello 6 invece non siamo ancora al 5 quindi se moriamo devi farti il salto con gli slime non morire non morire basta tu non morire vai avanti e non morire è utopistica come cosa? è utopistica? è topistica sono un utopistico bravo Pietro bravo porca ah qua devi fare il salto con gli slime forza addirittura vieni 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 è bellissimo sto livello te lo giuro ma io odio lo sto odiando questo livello io adoro a me piace un sacco perfetto vieni su dove siamo? perfetto perfetto parkour è facile ok ho potuto saltare si si l'importante è che non cadere allora lì sai che qua non so dove dobbiamo di viola? io mi sono buttato ma che sei scemo no lore no ma è lì inizio quello ma no come? che pirla ma veramente ma noia lo schifo no mo non lo rifaccio più eh oh basta andiamo avanti eh dici da lì? sì sì io faccio il test attenzione che se cadi ti fulmina Zeus very good livello 6 sì pensavo che volessi picchiarti di brutto andiamo oh è in casa oh c'è una casa possiamo riposarci un attimo dormiamo no ma tra l'altro c'è parkour anche qua dentro no dai allora qua fuori che cosa c'era? ok guarda è di qua guarda è qua dentro sì sì voglio vedere cosa c'era qua fuori è difficile però è molto più difficile dell'altro molto più difficile sì 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 let's go no no qua non so eh let me try a caso bravissimo schifoso no siamo dei dei ecco si è caduto di tutte e due tutto deve rifare qui sì grazie a dio siamo qua io l'ho rifatto apposta ci può sponere ancora nel pezzo della lava di prima ora se moriamo davvero ma no sto scherzando ma mi uccido ma questi non puoi aprirli toforo colombo comincio ad arrabbiarmi se lo dico ok andiamo andiamo nove che sono ancora nel libro no ce l'ho fatta no dai ora devo fare un salto con lo slime l'ultimo aspetta mamma mia what a player vieni vieni ok allora ragazzi aspetta che mi sto concentrando qua devi passare vai avanti bravo non così cosa è successo devi andare avanti ok devi non devi farti colpire dal carrello perché i carrelli ti esplodono in faccia è la cosa fa male fa male ok ho capito di qua penso che tu debba fare invece così che figata sto livello molto bene molto bene guarda player mi va veramente mi va pochissimi fps non capisco perché eh il tuo computer non regge minecraft aspetta vado giù ok molto difficile questa parte però ci sto riuscendo non male sono bravissimo non so come mai mi è rimasta la skill dagli scorsi parkour può essere ops qua è difficile perché ti esplodi che è un piacere ce l'ho fatta ho fatto un livello ma come te lo giuro è una parola vieni qua invece penso sia ok vai direttamente a livello 8 vai direttamente a livello 8 scendi scendi perfetto ok lascia un bottone dove sei questo forse è da fare in due allora dove sei finito c'è un passaggio segreto è bellissimo vieni vieni questo è finito sono qua ok allora credo che un parkourista professionista è lo so ok con le cose più piccole a farci a crearci problemi a questo era è già finito questo no vabbè raga io mi rifiuto ma non è possibile ma te lo giuro ma sai cosa è colpa di fornick sai come colpa di eh forse due domande me le farei ah c'era l'edera ok non l'avevo vista let's go ecco let's go una sega come hai fatto spiegami è difficilissimo tan 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 no lore no lore cos'è che è successo è un casino qui devi saltare sui blocchi singoli eh sì vai 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 ci ho creduto tantissimo e adesso lo slime lo slime jump ma tu l'ho centrato tantissimo vieni 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 era easy non l'hai fatto no bravo quindi ragazzi minecraft parkour finisce qua continuerò nel prossimo episodio con il buon pietro come al solito ragazzi se il video vi è piaciuto condividete con tutti i vostri amici lasciate un commento un video se non siete iscrivetevi e noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video beh ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.